Perché è importante acquisire la prova digitale secondo una corretta metodologia prevista dalla Digital Forensics? Le ragioni sono sostanzialmente due. La prima è una ragione di natura normativa, giurisprudenziale. La legge 48 del 2008, che ha ratificato la Convenzione Cybercrime, ha creato una prima pietra migliare della necessità di acquisire la prova secondo una corretta metodologia. Chi sia in grado di garantire la non alterabilità, una data certa, la non modificabilità, una serie di requisiti che ovviamente sono necessari perché una prova possa essere acquisita da un giudice e possa essere ritenuta valida a tutti gli effetti dal punto di vista giuridico. La seconda ragione è una ragione di natura eminentemente pratica. Sempre di più utilizziamo strumenti software, utilizziamo servizi cloud, utilizziamo piattaforme social, viviamo sostanzialmente con il nostro smartphone attaccato al nostro corpo. Tanto che un giudice americano aveva correttamente detto nel 2015 che se un alieno guardasse dall'alto l'essere umano, riterebbe che il cellulare è una parte integrante del corpo umano. A parte le battute, è evidente che l'utilizzo pervasivo della prova digitale necessita ovviamente delle soluzioni, anche software, in grado di acquisirla in maniera corretta e in maniera assolutamente anche semplificata. In quest'ottica non si può che essere contenti di iniziative che permettano al professionista di poter utilizzare strumenti semplici, immediati per l'acquisizione delle prove secondo le metodologie previste dalla best practice della digital forensics nel rispetto di quanto previsto dalla legge 48 del 2008.